ragazzi buongiorno allora oggi un bel mercoledì facciamo insieme un paio di cose andiamo un pochino avanti però in che maniera vi abbiamo detto con la lettura quindi per il giorno di oggi vi mando attraverso comunque sia i bucai le risposte a tutti di quello che abbiamo visto ieri cioè di pagina 35 esercizio 5 e pagina 34 esercizio numero 1 ok quindi di questi due vi mando sui bucai a tutti le risposte attraverso un link attraverso un testo scritto vi scrivo io le risposte di entrambi mentre per domani visto che è una cosa molto importante per noi in italia e anche in questo caso è tutto bloccato anche questo che è lo sport vi faccio leggere pagina 36 e pagina 37 attenti che poi a pagina 37 ci sono delle domande ok cerchiamo di rispondere a quelle domande fatte bene ricontrollate anche gli errori di grammatica le errori quando quando scriviamo qualsiasi cosa rileggiamolo più di una volta per vedere se è corretto quello che dico ok quindi rispondiamo a queste cinque domande quali sono gli sport più popolari in italia quali sono gli sport più popolari nel tuo paese quali sono nel tuo paese i quotidiani nazionali cioè i giornali dedicati allo sport come sono chiamati gli atleti della nazionale italiana e ovviamente come si chiamano gli atleti del tuo paese che nome hanno e da che cosa deriva quindi mi raccomando cerchiamo di utilizzare tanto vocabolario ok tante belle parole e poi ovviamente se volete vi mando anche del link che parla un po della storia dell'italia vi posso mandare qualcosa del ciclismo in quanto la locomotora del carci ha vinto anche il giro d'italia quindi un ecuatoriano che ha vinto in italia l'altro speriamo che presto vince che è caicedo e quindi ragazzi andiamo avanti con una piccola parte sullo sport qualsiasi cosa scrivetemi ciao